Sosta, scarico per autocarri al posto della sosta per disabili davanti all'ospedale civile San Pio di Vasto, è una vergogna. La denuncia viene dai consiglieri comunali di Flini, Nicola del Prete e Davide D'Alessandro. Quando questa mattina, per motivi personali, mi sono recato davanti all'ospedale e ho visto una squadra di operai rimuovere la segnaletica che garantisce il posto riservato ai disabili proprio davanti alla portineria dell'ospedale, mi sono chiesto se la stavano sostituendo a Serisce Nicola del Prete. Purtroppo la domanda ha avuto subito risposta. Sì, quella segnaletica doveva essere sostituita, ma per fare spazio ad una nuova e diversa segnaletica, quella relativa al carico e scarico degli autocarri. E l'ennesima dimostrazione dell'approssimazione con la quale si opera in questa città, dichiarano i due consiglieri comunali, il piano Sosta, che non abbiamo così come non c'è un nuovo piano traffico, viene modellato di volta in volta secondo le esigenze che si creano, senza una visione complessiva del territorio comunale. La cancellazione della Sosta per disabili davanti alla portineria per essere spostata più lontano è un atto di una gravità evidente, perché se proprio era necessario creare uno spazio da dedicare allo scarico degli autocarri, ebbene questo spazio poteva essere ricavato dove vi sono parcheggi liberi o a pagamento proprio nei pressi. Con questa denuncia, concludono i due consiglieri comunali, vogliamo suggerire all'amministrazione e per esso all'assessore alla Polizia Urbana Mario Olivieri di rivedere immediatamente questo provvedimento che porteremo all'attenzione del Consiglio Comunale al più presto. Grazie.